Buongiorno amici, anche oggi parliamo di canzoni di Sanremo, in questo caso però parliamo della canzone di Max Gazze, canzone che si chiama Il Farmacista e che nel video di ieri vi ho detto non mi piace particolarmente, ma il tema è Il Farmacista, quindi comunque sia un tema di ambito scientifico-medico, e quindi così la prendiamo come spunto per vedere che cosa dice all'interno del testo, se dice cose reali o cose inventate. È importante questa cosa dal punto di vista della canzone? No, nel senso che è ovviamente un testo che poi ha un significato allegorico che tra poco vediamo, quindi fa niente che dica anche inesattezze, però è comunque interessante magari andare a vedere che scelte ha fatto l'autore. Ho sempre gli occhiali da sole, perché quando ho gli occhiali da sole vuol dire che non ho gli altri occhiali, perché non li trovo principalmente. Allora, andiamo a vedere il testo della canzone tra pochissimo, ok, adesso ad esempio dal sito della Repubblica direttamente. Allora, la canzone parla di questo farmacista che è un personaggio che ha lo scopo nella canzone di essere una sorta di scienziato pazzo, infatti lo vediamo già dal si può fare che arriva ovviamente da Frankenstein Jr. e dopo vedremo anche che è proprio pazzo, cioè una persona che ha la soluzione a tutto. In questo caso, soluzioni a problemi di tipo prettamente femminile. Infatti questa cosa un po' mi ha lasciato dubbioso, nel senso che è una canzone d'amore, quindi tendenzialmente ci sono sempre delle donne, ma fa alcune affermazioni, per quanto ironiche, per quanto siano ovviamente uno strumento per parlare di altri argomenti, un po' così. Non so se si può dire sessiste, ma non è sessista ovviamente la canzone, però ecco, forse in questo periodo storico in particolare avrei fatto una scelta diversa. Allora, la canzone ci dice polvere d'amore, tè verde, due bustine e non mi dici più che non ti va. Ecco, questa è una frase che può essere l'elemente sessista, siamo d'accordo? Perché più che non ti va ovviamente si intende il sesso, stiamo parlando di sesso, Uma? Esattamente. E dopo parla invece di una cosa che effettivamente con il sesso c'entra molto, soprattutto con l'emancipazione femminile e poi la lotta degli anni 70, cioè cita due farmaci che non si usano più molto, ma sono stati due farmaci molto importanti, ora si usano versioni migliorate. Cioè il dimetisterone e il norgestrel, il norgestrel dal nome si può capire, gestrel che è un progestinico, e il dimetisterone idem, ma alla stessa maniera sono entrambi anticoncezionali. Questa qui è, non so se avete mai sentito parlare, la minipillola, ok? Quella che viene chiamata anche minipillola. Infatti infiale non ha tanto senso, qua viene messo ovviamente per fare, per la metrica della canzone, ma è una pillola, quindi non può essere infiale o comunque non credo esiste infiale. Comunque sia quindi questi due farmaci che vengono utilizzati come anticoncezionali, oltre che come regolarizzatori del ciclo, eccetera eccetera, come tutte le pillole, gli anelli, le spirali, no le spirali no, sto scherzando, gli anelli, i cerotti, ecco volevo dire i cerotti, le spirali hanno un funzionamento diverso da questi farmaci. Comunque sia, sono farmaci ormonali e quindi modificano il ciclo mestruale agendo direttamente sull'ovaio e sull'utero. Comunque sia, e quindi perché vengono utilizzati dall'autore, dal scienziato pazzo, queste due cose? Per chiuderci una notte in camera, ok? Questo in verità è molto importante dal punto di vista dell'emancipazione femminile, è stato importante dal punto dell'emancipazione femminile negli anni 70 perché era, diciamo, un modo per le donne, adesso non voglio semplificare troppo, anche perché non è il mio argomento principale, ma in verità è sicuramente un argomento molto importante da approfondire, è stato per le donne un modo di poter vivere la sessualità senza doversi preoccupare delle gravidanze, quindi proprio la sessualità dal punto di vista del, non so se si può dire, divertimento. Allora, in questo ambito come ti muovi? Pesti una merda, quindi vorrei evitare, però non so se ci siamo capiti, comunque è un argomento molto importante. Quindi, in verità, qui, ecco, forse ci gioca un po' Max Cazzee, non so, non so se... mi ha lasciato un po' così stranito, comunque sì, perché dice, sembra quasi che... che se una donna dice di no è perché ha paura di rimanere incinta, quindi sembra una semplificazione, ma è una canzone, fa niente. Andiamo avanti. Sono tutte soluzioni al naturale, cioè sì, dipende che cosa intende per naturale, perché ovviamente questi due farmaci sono farmaci, e quindi non sono naturali nell'intenzione classica, per quanto, ovviamente, la distinzione naturale-chimico non esiste, ma in questo caso bisogna capire cosa intende. Comunque sì, amore mio, vedrai che male non ti fa. E, insomma, sono un po' disaccordo, sono comunque farmaci, ma non per di sotto consiglio medico. Te le ho create io, ok, è un farmacista, potrebbe farlo, tecnicamente, se non c'è più, come dire, se non sono sotto brevetto, possono essere create anche dal farmacista, ma in nome della scienza, per quella tendenza alla rigidità, e qua ovviamente si intende sempre rigidità, ipotizzo, rigidità sessuale, e però, in verità, i due farmaci, questo farmaco qua che cita, adesso non so se è una scelta oppure no, ma è un antipsicotico, da trifluoro per azina, che ha, tra gli effetti collaterali degli antipsicotici, dei neurolettici, quindi i farmaci che vengono utilizzati nel trattamento della schizofrenia, e un po' anche di disturbi d'ansia, ha un effetto che può causare rigidità, adesso non so se la cosa è evoluta oppure no, come effetto collaterale, però, oh, magari sì, chi lo sa? Poi abbiamo, altri, qua inizia a citare altri, eh, altri farmaci, allora, il pindolo, partiamo dal pindololo, il pindololo è molto facile, in verità, perché finisce in ololo, quindi 99% dei farmaci che finiscono in ololo sono, eh, betabloccanti, quindi come il propranololo, per intenderci, non so se avete mai sentito questo tipo di farmaco, comunque sia un betabloccante, quindi un farmaco che agisce sui recettori beta-adrenergici, beta-1, beta-2, e li inibisce, e quindi in questo caso è un anti-ipertensivo, ok, non può essere usato nel trattamento di varie patologie, principalmente l'ipertensione, ma anche lo scompenso cardieco. Invece lo stramonio è una pianta, ok, quindi non è un farmaco propriamente, ha degli effetti farmacologici, ovviamente, adesso li vediamo, perché, eh, è una pianta molto velenosa che contiene la scopalammina, che è tendenzialmente un veleno, nel senso che è stato utilizzato storicamente come veleno, come per il suicidio o per l'omicidio, eh, ma a basse dosi è un alcaloide con grandi effetti collaterali, ma anche un effetto, mh, come dire, come si dice in questi casi, allucinante, ecco, effetto allucinante. Sto controllando adesso se ha anche la scopalammina, adesso non mi ricordo esattamente gli effetti della scopalammina, se può dare anche lei effettivamente, no, così a memoria non dovrebbe, se può dare anche lei effetti di rigidità, però ecco, questo sarebbe una sottigliezza interessante, comunque, cioè è un giochino interessante tra la rigidità e i farmaci che lo possono causare, il pindololo così a naso non lo causa. Comunque sia, un pizzico di secobarbital, ok, secobarbital è un barbiturico, quindi non so se avete mai letto Diabolica, ad esempio il pentotal, ok, il tiopentale, sodico, barbiturico, barbiturico sono farmaci anti, come si dice, sono farmaci ipnoinducenti, quindi che ti fanno addormentare, sonniferi per intenderci, usati anche nel trattamento dell'ansia e soprattutto nell'anestesia. Adesso si usano poco, soprattutto fuori dall'ospedale, perché hanno molti effetti collaterali, sono molto pericolosi, però questo è il loro scopo, sono farmaci molto molto potenti. E in Diabolica vengono utilizzati il tiopentale come siero della verità. Principalmente lo usa spesso Diabolica, in verità è molto pericoloso, perché non so, ha così a naso una dose tripla rispetto a quella che funziona, ti ammazza, quindi ecco. Non è proprio il caso di usarlo se non hai un rianimatore a portata di mano. Rianimatore, anestesista rianimatore si intende, una persona che ti può rianimare. Comunque sia, vabbè, somministrato questo secobarbital prima di un logoroico a solo, anche qua non credo sia sessuale a solo, ma... E via anche questa smanina di parlare. Certo, perché il secobarbital è un tranquillante, ok? Quindi non c'è tanta voglia di parlare, se lo prendi. Non c'è neppure controindicazione, sono molto contrariato da questa affermazione, perché è molto pericoloso in verità. Cioè, è molto pericoloso, deve essere utilizzato in maniera corretta, non è pericoloso in generale, ma è facile abusarne, ecco. Amore mio, ti dirò come si starà senza il pesante tuo brusio da conferenza che mi rompe l'anima. Qua sta dicendo che le donne parlano troppo, io ho la soluzione, e qua, ecco, è il personaggio che ha la soluzione a tutti i problemi, e che è quindi una sorta di scienziato pazzo, che pensa di poter risolvere ogni tipo di problema, ok? Questo è poi il senso generico, è un'invettiva contro questo tipo di persone. Per un tormento che attanaglia, punto debole o magagne, qualsivoglio imperfezione. Per tutto invento, sei tranquilla, una biochimica pozione. Questo è un giochino carino, ok? Ci sta nel flow della canzone, va bene. È quel miracolo che non ho visto mai, nessun'altra, se non te, dopo la cura, e stai sicura che stavolta è quella buona, e presto mi ringrazierai. Noci, zafferano, lavanda e passiflora. Qua non si capisce se è una ricetta, o è più propriamente un, come dire, una pozione, magari un preparato fitoterapico? Boh, non so. Adesso, lavanda e passiflora hanno sicuramente qualche utilizzo dal punto di vista della fitoterapia, o del, o se vogliamo anche delle medicine alternative, dopo le vediamo. Però, poi ci mettiamo anche il guaranà, ecco, il guaranà invece, lo credo lo conosciate, è una pianta che contiene appunto la guaranina, che è sostanzialmente caffeina, quindi come la teina, come la caffeina, ha lo stesso effetto, stimolante. Ok? Travasare piano l'essenza su verdura. Controllo shopping è una favola. Altro problema femminile è fare shopping, quindi è una cosa che va curata. E queste cose non mi piacciono nella canzone. Cioè, i giochini di parole sono belli, però sembra davvero quasi misogina. Vabbè. Per i tuoi troppi salti d'umore, fiori di bacca e vitamina E. Allora, fiori di bacca, medicina alternativa, quindi ovviamente non funzionano, contengono una gra... Cioè, per gli sbalzi d'umore in verità funzionano, perché contengono brandy, proprio il liquore, e il brandy è un antidepressivo, effettivamente, come tu dici, alcolici, d'altronde, ma non lo userei mai nella terapia degli sbalzi d'umore, quindi ci vorrebbe del litio, ecco, non tanto i fiori di bacca. E i fiori di bacca non funzionano, siamo d'accordo. Mentre la fitoterapia ha comunque un principio attivo al suo interno che funziona, l'unico principio attivo che hanno i fiori di bacca che funziona davvero è l'alcol, ma non ve lo consiglio per una terapia medica, ecco, non è il massimo, tranne che nell'intossicazione da metanolo, ecco, l'unico modo in cui si può usare l'alcol etilico come farmaco, ma altrimenti non si può utilizzare. Invece, la vitamina E è una vitamina, quindi, che vi ricordo, finisce in amina, perché, soprattutto, le prime che sono state scoperte, contenevano un'ammina, ok? Un gruppo amminico. Vitamina E è un lipide che ha lo scopo di inibire la degradazione delle membrane cellulari, quindi è una sorta di conservante per i lipidi, ok? Contro la degenerazione da radicali liberi, adesso poi non entriamo nel... Però di certo non è un farmaco, una vitamina, tutte le vitamine hanno un utilizzo all'interno del nostro corpo normalmente, ma una loro carenza causa delle malattie, ma non sono propriamente dei farmaci, cioè non hanno un effetto attivo che se ne prendo tante e migliorano la mia vita, altrimenti sarebbero dei farmaci. Ma addizionando del trifoglio rosso, il trifoglio rosso è un'altra classica pianta che si utilizza, cioè pianta, è un fiore in questo caso, che si utilizza nella terapia, la fitoterapia, io e la fitoterapia non andiamo molto d'accordo perché sembra che se tu vai a vedere quali sono gli utilizzi del trifoglio rosso li puoi usare per praticamente ogni cosa, cioè diarrea, mal di testa, ipercolesterolemia, tosse, tutto, tutto, puoi usarlo per qualsiasi cosa. Comunque il trifoglio rosso l'avrete sicuramente anche nei vostri prati e se cercate su internet è molto semplice da vedere, da trovare. Comunque sia, ecco, questo fitoterapico, fitoterapico funziona, sì perché ha un effetto, ha un principio attivo al suo interno, dicevamo prima, ma è importante il fatto che non sappiamo quanto effetto c'è all'interno, quanto principio attivo c'è e quindi è difficile poi dosarlo, eccetera, e per questo i farmaci che possono anche utilizzare principiativi estratti direttamente dalla pianta sono migliori, ecco, perché sono ripetibili, sai esattamente quanto farmaco c'è, quanto principio attivo c'è, sai esattamente come si distribuirà e non conosci tutti i contaminanti invece presenti altri fogli o rosso che un po' ti fregano, quindi bisogna stare attenti alla fitoterapia perché ecco, non è riproducibile, possono cancellarti anche lo stress, va bene, coda di paglia, qualsivoglia imperfezione, bla bla bla, biochimica pozione, adesso dovrebbe, eccolo qua, un problema, cara c'è un problema, questo è il bridge della canzone, e dice appunto, qua capiamo che lui è uno scienziato pazzo, quindi forse gli possiamo abbonare la sua misoginia, gli scienziati pazzi sono tutti misogini, forse sì, comunque si appunto, dice che questa camicia mi incatena un po', l'hanno stretta a forza sulla schiena, quindi ovviamente una camicia di forza, perché lo dice anche a forza, camicia, forza, ok, non chiedermi perché, bla bla bla, e qua poi la canzone finisce, allora la canzone, come canzone in sé, non mi piace molto, anzi torniamo magari, torniamo qui, la canzone non mi piace molto, come già avevo detto, il testo ha sicuramente qualche gioco interessante, però, non lo so, fatemi sapere se conoscevate le cose all'interno, se vi hanno attirato, magari volevate sapere che farmaci fossero, se ho detto qualche castroneria, come è molto probabile, e niente, noi ci sentiamo alla prossima analisi di canzone, chi lo sa, ciao!